Si è tenuto nella serata di martedì a Bufalore il dodicesimo appuntamento di Incontriamoci, il ciclo di serate organizzate dal Comune di Brescia insieme a Urban Center Brescia per informare il pubblico sullo stato delle opere nei quartieri della città. Al centro dell'incontro il Parco delle Cave, con l'assessore all'urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile che ha fatto il punto sullo stato dei lavori. I lavori sono in corso, si sta lavorando sia sull'area ex Nuova Beton sia sull'area Faustini e in entrambi le aree si sta lavorando sia sulle sponde dei laghi per andare a consolidarle e a piantumare in maniera importante le aree e si sta lavorando su quelli che sono i percorsi ciclopedonali che permetteranno dalle diverse zone circostanti, quindi dal quartiere di Bufalora, di San Polo e di San Polino, di entrare all'interno del parco e poterlo percorrere in sicurezza. Quindi già nella prima metà del 2018 il parco potrà avere una buona fruibilità e quindi sarà una zona fruibile per tutti i cittadini. L'assessore all'ambiente Fondra ha invece parlato di quelle che sono le problematiche ambientali riscontrate nel corso dei lavori. Le problematiche sono storiche in alcuni casi, parliamo della cava Piccinelli piuttosto della cava Castella, piuttosto delle problematiche che si sono anche risolte come la discarica profatta di Amianto. È chiaro che abbiamo aperto un percorso, per aprire un percorso però occorre avere le idee molto chiare dalla direzione in cui si sta andando. Noi pensiamo che le criticità si possono risolvere proponendo la valorizzazione delle biodiversità, cioè con la natura che si esce dalle criticità, non c'è un'altra strada. All'incontro erano presenti anche il vice sindaco Castelletti, l'assessore Mucchetti, il consigliere Capra e il sindaco del Bono che ha indicato la sostenibilità ambientale finanziaria come via da seguire. Brescia ha imboccato con noi in maniera particolare la svolta di una nuova sostenibilità ambientale, cioè crescere ma in modo sostenibile, sostenibile dal punto di vista dell'ecoambiente, vuol dire ridurre il consumo di suolo, vuol dire rigenerare e riqualificare l'esistente, vuol dire investire sul trasporto pubblico, vuol dire investire sulla ciclopedonalità, vuol dire realizzare parchi e aree di mitigazione come in questo caso il Parco delle Cave, quindi è una politica complessiva che va nella direzione di un'idea di città diversa da rispetto al passato. E ovviamente tutto questo deve essere anche sostenuto finanziariamente, perché non basta realizzare parchi, non basta essere la città con il maggior numero di alberi, bisogna manutenerli poi. E quindi le scelte che dovremo fare nel futuro saranno quelle anche di priorità che nel passato non erano tali, o non erano così in maniera così significativa percepite come ore. Quindi è un lavoro faticoso, ma è un lavoro che sta dando dei buoni risultati e dei buoni obiettivi raggiunti, e anche credo una consapevolezza della popolazione molto diffusa, a difesa anche delle generazioni che verranno e dei nostri figli e dei figli e dei nostri figli.